Il lutto che ha colpito Marco Mengoni ha scosso l'Italia intera, perdere la madre in quel modo è terribile, nessuno vuole crederci Nei giorni scorsi l'amato cantante Marco Mengoni è stato colpito da un lutto gravissimo, sua madre è scomparsa all'improvviso lasciandogli un vuoto devastante nel cuore Nadia Ferrari, questo il suo nome, era una delle persone più importanti per il cantante e Mengoni non lo ha mai nascosto L'affetto che c'era tra i due è raro e bellissimo.Spaventa ora sapere che la donna se ne sia andata in questo modo e i fan del cantante non riescono ad accettare l'epilogo straziante che è toccato alla madre del loro Beniamino Tanti tra fan e colleghi si sono stretti attorno a Mengoni per trasmettergli la loro vicinanza, sapendo di quel rapporto speciale Ma ciò che è accaduto è difficile da dimenticare. Marco Mengoni e sua madre Della vita privata della donna non si sa molto, ma in effetti non si conosce troppo neanche di Mengoni, il cantante ha sempre voluto tenere private le questioni di famiglia e sua madre ha sempre rispettato il suo volere, rimanendo lontana dai riflettori Mengoni però non ha mai nascosto l'affetto che lo lega a lei, la donna lo ha sempre supportato fin da piccolo e gli è rimasta vicina credendo in lui Quando è arrivata la fama, non ha mai smesso di stargli accanto, incoraggiandolo I due erano legatissimi ed è straziante sapere che adesso il cantante sta soffrendo infinitamente per la perdita di una persona così importante Ma perché Nadia Ferrari se n'è andata? Questo si chiedono i fan da molti giorni, aspettando una comunicazione ufficiale del cantante In questo momento è difficile accettare ciò che ha passato la donna Nessuno avrebbe mai voluto che questo momento accadesse, eppure domenica 22 settembre Nadia Ferrari se n'è andata per sempre Attualmente né il cantante né le persone a lui vicine hanno reso note le esatte cause della morte della donna, ma sappiamo che era malata da tempo L'aspetto più terribile è che Nadia Ferrari se n'è andata a soli 60 anni, ancora molto giovane, è questo che ha scosso i fan e li ha lasciati in lacrime e senza parole È davvero ingiusto che una persona se ne vada così presto e sarà difficile per Mengoni ricominciare Sempre molto composto e misurato, il cantante ora deve prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per affrontare il dolore e tornare a rendere fiera sua madre I fan non vedono l'ora di poterlo abbracciare e vederlo dal vivo per fargli sentire tutto il loro calore e aiutarlo a superare questo momento tremendo